Sequel di Capitan Marvel che si intitolerà The Marvels. The Marvels è un film che arriverà il prossimo anno dove le protagoniste saranno ben tre, ovvero Capitan Marvel, Carol Danvers, avremo Monica Rambeau che abbiamo conosciuto, i WandaVision e infine Kamala Khan, Miss Marvel. Anche essa l'abbiamo conosciuta in una serie tv, ovvero proprio quella su Miss Marvel. C'è una nuova possibile notizia che sinceramente se fosse confermata non mi farebbe assolutamente impazzire per come sono fatto io, per il mio gusto personale, ovvero la notizia andrebbe a dire che a un certo punto questi tre personaggi che saranno i personaggi principali della pellicola, queste tre supereroine, andranno su un pianeta, su un pianeta dove questa popolazione non parla ma bensì per parlare canta. Quindi buona parte del film, ora io non so dirvi quanto è il minutaggio vero e proprio, però dice il rumor, che è anche abbastanza affidabile, che buona parte del film per questa motivazione che gli abitanti non parlano ma bensì per comunicare cantano, canteranno anche loro e quindi sarà una sorta di film musical, se così possiamo dire, o almeno una parte, io ovviamente non sto dicendo che tutto il film sarà un musical, ma una parte potrebbe addirittura esserlo. Potrebbe durare 10 minuti, potrebbe durare mezz'ora, 40 minuti, anche solo 5 minuti, questo non lo so, è presto per dirlo e non è neanche confermata la notizia. Però mi sono andato a informare e nei fumetti a un certo punto succede proprio la stessa cosa, dove Capitan Marvel si reca su un pianeta dove tutti questi abitanti cantano piuttosto che parlare, comunicano cantando e quindi va in atto una sorta di musical per forza di cose. Quindi all'interno del film potrebbe succedere più o meno quello che succede anche a un certo punto all'interno dei fumetti con Carolyn Danvers che è protagonista di tale vicenda. Ora, me, sinceramente, io non ho già molto hype per il film in sé, lo andrò a vedere, per la continuity, per tutto quello che volete voi, magari le post-credit saranno importantissime per il futuro, si vedrà una variante di Kang, chi lo sa, sì, no, forse, però insomma io già non ho hype per il film, ma inoltre se mi dicono che anche solo mezz'ora sarà un musical o dieci minuti, non lo so, già mi girano perché non sono il tipo di persona a cui piace questo genere di pellicola. Poi ripeto, è un fatto personale, magari alcuni di voi che stanno vedendo il video e stanno sentendo la notizia per la prima volta sono entusiasti, e io vi invidio perché se sarà così mi sfracellerò, ecco, avete capito cosa. Quindi staremo un po' a vedere, manteniamo la calma, detto ciò fatemi sapere la vostra qui sotto in un commento, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, ciao!